Non l'abbiamo presa per stimimento Lo sapevo io Bravo Vedi quanto tempo stanno attaccati Ho messo il... Quanto dovrebbero stare? Basta una goccia Se feconda, se è il momento giusto Bravo Zaki, bravo E tu quando mi dicevi che stanno attaccati così Non tirare Shila, stai là almeno 10 minuti, un quarto d'ora Speriamo che non passi a nessun gatto No, no, non passi No Shila, no, non ti preoccupare Sai che chiamo la Marianne che ha detto come fa mi chiamo Usa la pavia Farma Shila, farma Buona Shila, buona Farma, stai attaccato una mezz'oretta Dopo puoi fai con il cavo Buona Shila, buona Buona Shila Bravo Zaki Bravo Zaki Bravo Zaki, bravo Bravo Zaki Che siamo piatti? Guarda Zaki, sei arrivato? No, vedi no? Quello è il gioco Perché è il gioco? Ce l'abbiamo fatta Stanno attaccati Stanno attaccati Stanno attaccati Stanno attaccati 5 minuti ci ha messo Stanno attaccati Stanno attaccati